E' stata una notte di lumifragio a Milano. Le forti piogge hanno allagato parte del capoluogo lombardo e hanno fatto esondare all'alba il fiume Seveso, provocando allagamenti nella zona nord del milanese. Nonostante le autorità stiano lavorando per costruire più bacine di raccolta e trattenere parte del volume d'acqua dei fiumi in piena, erano anni che a Milano non si viveva una situazione simile. Diciamo che le isondazioni così non le vedevamo dal 2014, questo ci dice che è necessario lavorare sulle vasche. Quella di Milano è pronta, stanno facendo le ultime prove delle ponte, entrerà in servizio a fine novembre. Mancano però tutte quelle di regione Lombardia. Cinque regioni, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia e Trentino sono in allerta arancione e una del Veneto in allerta rossa. Preoccupazione a Verona per la piena del fiume Adige. I meteorologi prevedono che la situazione migliorerà nel corso delle prossime 12-24 ore. Il maltempo si sposterà verso il centro e sud Italia, finora baciato da un autunno quanto mai caldo.